Terza fila, 13 in Afrodite, 14 in Oreos, 15 in Arbonne FG. Rapporti di scuderia fra i numeri 9 e 13, 12 e 14. Veloci sono Orange dei Greppi, Oliena. Mentre vediamo incertezza di Olifante Jet, Orange dei Greppi prende il comando su Oliena che cerca di sistemarsi in seconda posizione. Manovra che riesce per la fallosa rieva di Roberto Andraghetti che oggi l'ha presa sempre dritta, i primi 200 metri velocissimi in 14, 1. Da parte di Orange dei Greppi, Enrico Montagna, Oliena in seconda posizione davanti a Oro di Walter. Poi vediamo Bruno Corelli con Nirano. Numero 11, Nilo Ness, squalificato. Numero 7, Olympic winner, squalificato. Sempre Orange dei Greppi a condurre le danze davanti a Oliena in seconda posizione alla corda su Oro di Walter. Di fuori è rimasto Orsi in piedi con Chiara Nardo, mentre avanza anche Narlene Zetane, Moreno Monti. Poi vediamo Netray Orsi a 600 in 45, 6. Passaggio davanti alle tribune con la lieva di Deider Rosso, sempre che conduce, giro in un minuto e quattro decimi. Oliena per il momento ancora in seconda posizione affiancata da Orsi in piedi, poi Oro di Walter, Nirano di TS. Di fuori coperta ancora Narlene Zetane con Moreno Monti. Intanto avviaiamo il chilometro passato da Orange in 1, 15, 6. Sempre Oliena, sempre lì davanti a Oro di Walter. Poi Orsi in piedi ancora tonico di fuori su Narlene Zetane. Accenna la terza ruota, Netray Orsi, ma non è produttivo più di tanto. Frazione delle scuderie ancora in 14, 8 con Orange dei Greppi che è padrone della situazione che deve respingere l'attacco portatogli da Orsi in piedi. Poi ancora Oliena, poi Narlene Zetane, Oro di Walter. Ultima curva passata dalla battistrada in 15, 3, retta d'arrivo. Orange dei Greppi in vantaggio attaccato di dentro da Oliena o di fuori da Orsi in piedi. Poi anche Narlene Zetane, ultimi metri. Orsi in piedi sembra essere sul punto di passare. Orsi in piedi se l'è guadagnata tutta, mentre butta via il piazzamento Oliena con una rottura ed è Narlene Zetane, seconda su Oro di Walter. Quindi bella vittoria dalla maniera forte tutta di fuori per Orsi in piedi. Il training e guida di Chiaranardo butta via il secondo posto Oliena che si getta di galoppo proprio sul palo. Lascia il secondo probabilmente a Narlene Zetane, mentre terzo di posizione Oro di Walter.